Centinaia di persone hanno affollato le sponde del laghetto di Camazzole a Carmignano di Brenta, a dirlo Alessandro Bolis, primo cittadino del paese, che nel fine settimana ha partecipato ai controlli insieme agli agenti di polizia locale e ai volontari della protezione civile in supporto ai carabinieri. 14 le sanzioni elevate che avrebbero potuto essere di più visto il fuggi-fuggi generale alla vista delle forze dell'ordine. «Quello che ho visto non mi è piaciuto, tanto che sto pensando di chiudere nuovamente l'aria», spiega Bolis. Domenica pomeriggio c'erano circa 300 persone sedute a coppie o in gruppi, senza la minima attenzione al distanziamento e spesso senza mascherina. A Carmignano abbiamo provveduto nelle scorse settimane alla distribuzione gratuita di 24.000 pezzi di mascherine e ne regaleremo la prossima settimana altre 15.000.